ehi ma che bel catorcio questo catorcio ha due carburatori e passa da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo. Lo sai Jack i dati personali di una signora riguardano solo lei? Ciao Nick giusto? Ecco veramente sarebbe Jack. Jack scusa io sono Sierra. Sì lo so. Una volta ti ha riofferto di farmi fare un giro sulla moto? Sì certo l'ho fatto beh quando vuoi. Non ci provare non ti faccio da sballare. Che ne diresti di farlo ora? Ecco. Ma guarda piccolo il mondo eh? Veramente io stavo parlando con lei? Bene così puoi invitare la tua amica ad assistere a una sfida contro la mia auto sportiva. Tu vorresti fare una gara? Sei svelto ad afferrare amico? Allora ci stai? Io? Beh ecco. Non mi hai fatto nemmeno rispondere. Infatti. E dai noi lo stracciamo. Come no? Tu non capissi. Sono le regole Jack. Ottimo se è stato chiaro. E se te la sei scordata la numero uno dice mai abusare della forza per un vantaggio personale e ciò include la potenza del motore. Senti Vince forse fare una gara non è una buona idea. Lo sapevo. Tu vuoi far credere a tutti che la tua moto sia speciale ma in realtà è solo una vecchia ferraglia ed è anche brutta. Adesso basta. Quel ragazzo mi ha stufato. No. Ehi che fine ha fatto la regola numero uno? La violiamo ma solo per questa volta. Ciao ragazze. Lo sapete che il vostro amico sia appena? Vince, quando vuoi tu? Sullo non preoccuparti Jack. Lo vedrai piangere. Cosa? Ehi, questa sarebbe l'occasione giusta per far fare il giro del quartiere a Sierra. Non esagerare.